Ciao a tutti da Fracco89, prima di iniziare vi ricordo di guardare la descrizione di ogni video che carico perché ci sono tutti i link dove potete seguirmi. Detto questo, iniziamo. Oggi parliamo di come aggiungere il nostro secondo canale YouTube a Google AdSense perché in rete non si trova nulla, è difficile da capire, eccetera, eccetera. Quindi nel 2020 la guida definitiva è questa. Allora, vi ricordo che di Google AdSense, di profili, se ne può avere solo uno, a persona. Però in questo profilo qua si possono aggiungere fino a 500 canali YouTube, per esempio, eccetera, eccetera. Quindi come bisogna fare? Vi dico subito che se non avete ancora attivato la monetizzazione, andate qui nel vostro canale YouTube. Per richiederla cliccate sul vostro profilo, YouTube Studio, monetizzazione. E in questo caso io ce l'ho già attivata ma a voi ci sarà scritto attiva. Ok, voi cliccate e andate a impostare il vostro Google AdSense. Mi raccomando quando andate a impostarlo non createne uno nuovo che vi farà vedere l'email del vostro canale. Ma mettete l'email di quello che avevate già, ok? Quindi del vostro primo canale. Perché se no non ve lo fa attivare perché vi dice che avete già un canale attivo e non si può. Ok, se invece avete sbagliato e avete già creato l'account secondario e sicuramente se state guardando questo video avete sbagliato, cosa bisogna fare? Bisogna andare sempre su monetizzazione, qui. Se siete bloccati lì praticamente vi dice che dovete cancellare prima l'account primario, eccetera. Cosa bisogna fare? Cliccate su monetizzazione, di nuovo, tornate qui, andate su mostra di più, qua sotto, cliccate qui. Poi andate su qua sotto, account AdSense associato. Cliccate. Ok. Adesso qua come prima cosa vi esce l'email del vostro canale. Invece dovete cambiarla e metterla quella del vostro account AdSense, che è quella del vostro primo canale. Se avete la monetizzazione attiva su un canale sapete già qual è il vostro account AdSense, ok? Quindi. Andiamo qui, vi richiederà la password, vi farà la verifica, vi arriverà il messaggio sul telefono per verificare, eccetera. E in questo modo avete aggiunto l'account, il secondo account YouTube sul vostro account AdSense. Poi, quando andiamo su AdSense, accediamo. Praticamente cosa succede? Che qua vediamo sempre nella schermata, nella home page, vediamo sempre l'andamento del primo canale YouTube. Principale, non del secondo. Però poi i pagamenti sono poi associati tutti e due insieme, diciamo. Che non so, se il vostro canale fa 10 euro questo giorno e il vostro secondo ne fa altri 10, in quel giorno avrete guadagnato 20 euro. Ok, quindi poi a fine mese, quando avete raggiunto la soglia del pagamento, vi arriveranno il pagamento di tutti e due i canali. Se invece, se volete vedere anche però come sta andando il vostro secondo canale, su Google AdSense, andate, aprite Google AdSense e andate su Annunci, qua sopra. Poi cliccate su Canali URL. Io ho qua, in questo caso, adesso vi faccio vedere. Ho aggiunto anche il mio primo, ma non serve. Praticamente, qua fate, cliccate il nuovo canale URL, ok? E andate nel vostro canale secondario, il mio canale, a copiare il link, l'URL del vostro canale, qua sopra. Fate copia e lo incollate qui. E poi fate, aggiungi canale URL. Praticamente poi vi esce qua, ok? Così almeno, se fate visualizzare apporto da Google AdSense, potete vedere come sta andando il vostro canale, eccetera, eccetera. Tanto poi, se andate su pagamenti, tutto l'importo generato verrà qui. Quindi poi a fine mese, quando vi arriverà il pagamento, generato da tutti e due i canali. Visto che sono cose che nessuno spiega, difficili da trovare, spero che il video vi sia stato utile. Lasciate un bel like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.